Ragazzi, bentornati su Cose dell'altro cinema. Questo sarà un video molto molto breve, perché non ho nessuna intenzione di fare spoiler. E ci terrei tantissimo ad avervi nei commenti, però in maniera un po' conservativa. Cercate anche voi di non fare spoiler, cioè comunque avvisate. Ho visto che molti quando commentano avvisano, faccio spoiler e poi scrivono sotto. Fate così, perché davvero ci tengo molto a parlare di questa serie, e ci tengo molto a dirvi quanto mi sia piaciuta, ci tengo molto a dirvi quanto mi abbia fatto divertire. Ringrazio Lara, anche detta Fenrir, o se preferite MyLoki, perché mi ha consigliato questa Good Omens e me l'ha consigliata con le giuste parole. Mi ha detto, è scritta da Dio, piglia per il culo il fantasy e riesci a fartelo piacere anche se non ti piace il genere. In effetti, Good Omens è una serie fantasy, anche perché è una serie che attinge all'immaginario biblico. E sappiamo tutti che se c'è un libro fantasy che ha venduto meglio del Signore degli Anelli, quello è la Bibbia. Infatti moltissimi libri fantasy hanno un'impostazione similbibblica. Questo Good Omens racconta, senza fare spoiler ovviamente, vi racconto proprio l'antefatto, racconta la storia di un demone, un angelo, dell'umanità e di una profezia. In realtà poi scopriamo che non si tratta di una sola profezia, ci arriviamo. Questo demone e questo angelo sono i custodi, in qualche modo, dell'umanità, hanno il compito di sorvegliare la razza umana. Il demone, ovviamente, fa di tutto per rendere la razza umana sempre più iniqua. L'angelo, invece, si occupa dell'esatto opposto. Solo che con il passare dei secoli, questi due fanno amicizia, punto primo. Secondo, iniziano a dimenticarsi dei propri compiti, perché tutti e due, in qualche modo, si uniformano a quello che è il modo di vivere terrestre, si innamorano della cultura degli uomini e quindi apprezzano la nostra cucina, apprezzano la nostra musica, apprezzano le nostre auto. E allora, tra il diventare amici e stancarsi del fare i demoni e gli angeli, questi due diventano uno stranissimo ibrido, una strana coppia, che è divertente da vedere. È divertente perché, nonostante il tutto possa essere pensato come un ah, beh, dai, l'angelo e il demone che diventano amici, che è Red e Toby, no, il tutto è pensato in maniera molto più intelligente, questo produce delle gag sempre molto taglienti, sempre molto fighe, e soprattutto, quello che mi ha colpito moltissimo, è il modo in cui si alterna la tipologia di comicità presente in Good Domains, perché avete una bellissima sceneggiatura, molto brillante, e quindi c'è la gag proprio verbale, c'è il testo ben scritto che ti fa divertire, ti fa ridere. Ci sono gag fisiche molto ben riuscite, e questa è una cosa bella, quando vedo mischiare gag fisiche a gag un po' più concettuali, mi diverto molto perché c'è questa alternanza. Questa è una cosa che non è uno spoiler, vero e proprio, però per farvi capire quanto mi abbia colpito a livello proprio di messa in scena e di regia, c'è un episodio, tra l'altro uno dei primi, in cui la macchina da presa entra nella libreria di questo angelo, passando dalla strada, quindi siamo in strada, la macchina da presa si avvicina alla vetrina di questa libreria, passa attraverso alla vetrina e ci ritroviamo all'interno. Una ripresa fighissima, effettone, no? Macchina da presa che passa attraverso il vetro. E lì tu fai, minchia, ma che cura, bro, questa sera... Vabbè, un punto. Qualche scena più tardi, vediamo un'inquadratura dall'alto, se non ricordo male, abbastanza dall'alto, il totale di un palazzo, vediamo una finestra illuminata, la macchina da presa si avvicina alla finestra, tu, spettatore, sei pronto? Perché pensi che la macchina da presa entrerà nella finestra. Quando si avvicina al vetro, boom, la macchina da presa sbatte. Questa è una roba che si può apprezzare anche in certe cose di Mel Brooks, questa sorta di metacinematograficità che fa ridere, che è divertente, che ti ricorda comunque in maniera abbastanza schiacciante che stai guardando un film o una serie tv, comunque un prodotto cinematografico di questo tipo. E ci ho riso, ci ho riso come uno stronzo, ma sono piccole attenzioni, piccole accortezze. Io sono sicurissimo che la buona scrittura, sono sicurissimo che la buona messa in scena, siano cose che passano attraverso i dettagli, queste finezze, queste cose che lo spettatore poi ricorda con piacere. Non vi sto a dire gli attori quanto sono bravi, i protagonisti sono David Tennant e Michael Sheen. Michael Sheen, tra l'altro, abbiamo parlato di questo attore, non proprio dell'attore, abbiamo parlato di una saga in cui è un personaggio importante, ovvero Underworld. Lui è il capo della ribellione dei Lee Kahn. Qui è irriconoscibile, gli hanno ossigenato i capelli, avrà preso 25 chili, è un pacioccone qui, e funziona, funziona da dio. Anche la versione in Italia, ho guardato qualche episodio in lingua originale, non integrale, ho dato una scorsa per sentire un po' le voci originali, ma per il resto me lo sono goduto moltissimo in lingua italiana. Veramente mi è piaciuto un botto. Quando Lara mi diceva questa serie prende per il culo il fantasy, si riferiva di fatto ad un elemento, questa cosa delle profezie, che c'è sempre tutto già scritto, che la storia sembra essere pilotata e andare in quella direzione per forza di cose. È una soluzione narrativa molto, molto pigra per quanto mi riguarda. E in questo Good Omens, per prendere in giro questa cosa, l'hanno esasperata. Infatti c'è questa strega, tale Agnes, che ha predetto tutto. E in effetti nel libro, anche nel sottotitolo del libro, c'è scritto Belle e Accurate Profezie. Qui nella serie si parla di belle e accurate profezie di questa Agnes. E queste belle e accurate profezie sono dei foglietti su cui ci sono scritte le cose in una maniera precisissima. Cioè tipo alle 4 di pomeriggio ti suonano alla porta e un uomo col cappello. Il 12 settembre 1994, alle 6 e un quarto del pomeriggio, ti cade la tazzina del caffè. Cioè queste sono le profezie. Quindi non c'è la profezia del tipo oh, il tempo mi parla ma sussurra, è difficile comprendere la natura della profezia, il prescelto troverà la spada ma forse nel suo cuore. no, le profezie sono cade la tazzina alle 4 e un quarto del pomeriggio, questa cosa ti ammazza. Perché a un certo punto tutta la storia, giuro tutta la storia, viene pilotata da questi foglietti con queste micro profezie super precise, belle e accurate. Voi direte, vabbè ma che palle, in questo modo continuamente tu sai cosa succederà. Esatto. Ma ti pisci sotto dalle risate perché trovano sempre modo di incrociare queste belle e accurate profezie con una gag, con una situazione divertente e soprattutto senza togliere pathos alla situazione che sta crescendo di intensità, di gravità verso il finale. Cioè nonostante sia tutto scritto, sia tutto lì, riescono comunque a tenerti attiva l'attenzione e l'attenzione. Geniale. Raga, è geniale. Secondo me Goodomens è una delle serie più belle degli ultimi anni, una bellissima comedy, veramente figa, scritta bene, recitata bene, girata bene. Ripeto, qualità altissima. Non so se avete voglia di leggervi il romanzo, io credo che lo farò perché mi dispiace veramente tanto che sia finita. Ed è finita. Cioè inizia, finisce. È una miniserie, non ci saranno altre stagioni, quindi questa è... Ma perché a ogni video qualcuno romba? Comunque, dicevo, è una cosa fighissima. Magari non incontra i vostri gusti perché c'è a chi ste cose fanno cagare, però, signori, a livello di qualità ce ne appacchi.